Incontriamo un avversario di grandissimo valore, un avversario dove sa molto bene cosa fare in tutte le situazioni perché c'è stata continuità di guida tecnica, molti giocatori e tanto tempo che giocano insieme quindi ci sono grandi qualità tecniche, fisiche, quindi è una partita proibitiva ma noi lo sappiamo anzi questo ci stimola ancora di più, è una partita che noi dobbiamo centrare la prestazione perfetta, non sbagliare niente perché è un avversario che non ti permette errori, già sono molto bravi loro a crearsi le condizioni per darti grandi problemi e noi non dobbiamo regalare niente, dobbiamo fare una prestazione sia dal punto di vista fisico che mentale di altissimo livello, di altissimo vigore ma lo faremo da questo punto di vista